Le ricerche sono cominciate dopo la segnalazione di un bagnante che al largo delle acque di San Cataldo in una località stretta dal massimo riservo per evitare ora saccheggi e depredazioni aveva notato sul fondale un oggetto molto simile ad un cannone. Una segnalazione che è stata immediatamente raccolta dalla Capitaneria di Porto di San Cataldo al comando di Roberto Reale, coordinati dall'ufficio circondariale marittimo di Otranto, mezzi e uomini della Capitaneria della Marina Leccese hanno raggiunto il punto indicato ed hanno dato il via alle ricerche. Le sorprese non sono mancate. Ad una profondità di circa due metri hanno scoperto quello che molto probabilmente è un vero e proprio tesoro sommerso. I cannoni a bancarica sono ben cinque e poi c'è un reperto che deve essere ancora esaminato mentre è certa la presenza di diversi manufatti. Ad individuarli sono stati, come si vede da queste immagini, i sub della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto. Potrebbe trattarsi insomma di un galeone affondato secoli fa, ma questo è tutto da chiarire. Per questo è stata allertata la sovrintendenza di Taranto che dovrà ora effettuare un sopralluogo e quindi decidere se recuperare i reperti o lasciarli lì. Molto probabilmente nascosto sotto la sabbia c'è un veliero sul quale i cannoni erano trasportati, un galeone del Settecento affondato per una tempesta prima di raggiungere la riva, un tesoro che al momento il mare continuerà a celare ma che sarà monitorato costantemente dalla Capitaneria.